Vedete, quando voi per esempio parlate di certi calciatori e io vi dico voi devo difendere il calcio napoli allora io mi debbo preoccupare di voi a meno che non ho un prestito inaspettate opportunità nella vita e sono stato figlio e anche io a 25 anni a 30 anni facevo delle cose che probabilmente oggi non farei ok